Il Boxing Team Simone Di Marco in collaborazione con la Federazione Pugilistica Italiana ha organizzato il primo torneo internazionale di pugilato femminile elite intitolato a Gabriele D'Annunzio in onore del Vate della città di Pescara, 100 anni dal premio Atleta dell'Anno, del quale il Vate fu insignito nel 1921. Anche il logo dell'evento, omaggio D'Annunzio, si tratta di uno scudetto di segno e creatura del genio sportivo D'Annunziano. Pescara, città dello sport, assessore non si ferma a tanti eventi, oggi ne è stato presentato un altro di grande rilevanza. Dopo i campionati di vela, di windsurf e dopo gli europei di basket sordi dove abbiamo visto trionfare l'Italia, oggi siamo qui per presentare il torneo femminile di pugilato denominato a Gabriele D'Annunzio. Ricordiamo che la città di Pescara sono tre anni che festeggia con il Festival D'Annunziano l'immagine di Gabriele D'Annunzio, l'immagine del Vate e quindi quest'anno è la prima volta che faremo un torneo internazionale dove il Vate sarà protagonista. Un appuntamento che vuole ribadire nuovamente l'attenzione verso un personaggio illustre della nostra città e che chiaramente si riconduce per riferimenti valoriali sportivi anche all'iniziativa stessa. Un appuntamento del quale siamo particolarmente orgogliosi perché c'è stata una sinergia tra le istituzioni territoriali, quindi l'amministrazione comunale e regionale e la federazione pugilista italiana che insieme hanno nuovamente riconfermato una particolare attenzione per la nostra promozione sportiva.